Il progetto Voce darà un slancio in più. Ci sono realtà nel nostro territorio che già stanno lavorando da anni, che hanno dato prova di essere capaci di promuovere il volontariato, un volontariato di qualità, che rende un servizio alla città e rende un servizio anche a coloro che lo fanno. Un'esperienza di formazione e di attenzione per tutti i problemi e le risorse della nostra città, sicuramente rivolto ai più giovani, italiani, milanesi, ma non solo, e anche la prospettiva di far sì che il volontariato sia una delle abitudini a cui tutti i cittadini piano piano si accompagnano rispetto a quella che è la prospettiva di cittadinanza attiva che vogliamo promuovere.